Non ho più vent'anni Ne hai ventidue Eh già Quando è che fai ventitré? Non ci voglio nemmeno pensare Ventitré, già devi iniziare a pensare Mamma mia, i figli Mamma mia, i figli Matrimonio, il lavoro Matrimonio, il lavoro, la casa Oddio, esame della prostata Tutte le cose che... Non hai già stai dato a capare Sì, 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 esatto Se non senza flash è tanto... Tanto è un campione d'altissima mobilità Ma tanto non serve la mobilità su Sion Ci pensi che dall'anno prossimo Mi tocca andare a vedere i manifesti morti con mia nonna Come tutti i vecchi, no? Tocca andare a vedere chi è morto Chi è sopravvissuto alla giornata Ah, questo... Io mi ricordavo di lui Cioè... Mi ricordavo di quella città Era quello che giocava sempre a briscola Al circolino Degli amici sopravvissuti Ogni anno si fa Ogni anno si fa Cattellina con la X Do fuoco alle tende, non lo so Mamma mia Se non le ho le tende Do fuoco alle tende Gioca... Gioca, no, indovina chi Coi manifesti dei morti Agli occhiali Agli occhiali Agli occhiali Sì Cazzo, tutti agli occhiali È biondo, sì, è biondo È biondo, sì Cazzo, tutti agli occhiali a quest'età Io ho 33 si guarda live dalla tomba Minchia, sì, sì Spero tu abbia già fatto testamento Perché sennò Che cazzo è? Oddio È mio fratello Ah, non è Antuono, ok No, no, no Mamma mia, è brutto tempo Dice, ma che cazzo? È il suo grido di battaglia Ah, ok Un grido d'autismo Sì C'è anche il Adesso le dimostri complimenti per il tuo grido di battaglia Eh, lo saccio, lo saccio Lo saccio Lo saccio Bella, fierica Bella Vedi, appena è entrato Vale forse subito a spammare Un po' come quando entra mia nonna Cosa vuoi da mangiare? Stasera tutti a spammare la nonna Nonna, sono in live Mangio il cazzo che mi parla Ho bisogno che me lo chiedi È tre anni che mangio È più di tre anni che sono qua Che mangio il cazzo che mi pare E ogni tanto Ti viene in mente di chiedermi Cosa voglio da mangiare Mia madre invece mi dà le opzioni E poi dopo alla fine Ah Mi dà il menu Sì, sì E poi fa il cazzo che le pare Sì, sì Tipo ho detto Eh, puoi mangiare tante cose stasera Cioè, il prosciutto Il bacon Ah, beh, mi faccio il bacon No No, no Il bacon, no Appena volito E allora Ma Allora, tu parti da lì Ti fai Tutta la tua Route di jungle E poi vieni top E ggwp Ok, quindi livello 4 Faccio la route Ok, è proprio giusto Io normalmente starterei Di Q per la wave eccetera Ma starterei W per iniziare a staccare subito la vita In modo tale da fare più danni col demolish Perché quello è il nostro obiettivo Questo è lo Quello è Non abbiamo altri interessi Non abbiamo altri interessi Ecco qua 547 Vai, guardiamo la vita ragazzi come sale Tuck Guarda, guarda, guarda 555 di vita Ottimo Come cazzo parla? Sembra un albanese ubriaco Sì, l'avevo mai sentito Cioè, scusa Non ci ho mai fatto caso Più che altro Vai Sempre per quei discorsi di integrazione Che aveva fatto la Raya Queste cose forzate L'integrazione della Riot Vai, vai Minchia, regà Guarda la vita come sale E? Infinita vita bonus E beh, certo Come la P di Vega Come le Q di Nasus Infatti ho pensato Allo stack team E' il tipo Champion che stanno Half farm 50 minuti E poi diventano imbattibili Nasus Sion Veigar Trash Con la E Poi non so chi altro A me ne piacerebbe Fanno roba Il problema è che Dopo che fai in tutto quel tempo Morto prima Cioè Eh, lo so E' quel problema Se no A me piace un sacco Sta roba Con cui fai profitti Eccetera Io Apprezzo questo Il tipo di stacking E' champion stacking C'hanno loro perché Un fascino tutto loro Ma è Silas L'ho già mandato back Ha flashato Ecco qua Ecco qua Il demolish è già partito Mate Il TP pure Flash TP Sono belli che andati Che non usi Conquer No 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 Il grasp Mi serve la vita Per il danno Del demolish Qua sto staccando Che è una meraviglia Mi ha fregato il blu Il bastardo Oh c'è Kha'Zix top Sto arrivando anch'io Vai picchia picchia C'è la prossima Che si lo so Che si lo so In due cazzo vai Eh Va' Kha'Zix L'ho cancellato No che si lo so Che si lo so Mette Arrivo Un'altra scelta Non c'è Non c'è Non ho mana Niente Non è neanche per la W Nulla No C'è mana solo con Akuma Ma ho preso il blu Il bastardo Vai vai Tu 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 Vai Mamma mia A casa A casa Che cazzo pensi Di biemare Eh L'overconfiance Mamma mia Troppo confident Sto ragazzo Che pensa di fa Che pensava di fa Raga ma che voleva fare Quello Ma l'avete visto Mamma mia È vergognoso Vergogna E aprivo pure sto campo E glielo stacco pure Toll 108 stack Al primo giro A 5 minuti Let's go Ok Vai C'ho già un milione Di vita Qua Va a prendermi Le mie Dove ci stacco In top Vai Gromp E poi puoi Gankare Questo coglione Comunque Ah Comunque le rune So queste Le faccio vedere L'ho usato 6 volte Quindi ho 30 di vita In più Per questo Ne serve ancora di più Questo total health 18 di vita Mi ha dato Quindi ho 48 di vita In più per le rune Caccia via Io le adoro Ste cose Quando c'era ancora Quell'item Che dava D in base Agli HP Quale? C'era un item Che dava A D Ma se l'HP C'era il 15% Degli HP Diventavano D Sto cercando di coi da quale Mi viene in mente Era tipo una lancia Fatta strana Arrivo Arrivo È difficile C'ho la ulti C'ho la ulti C'è Kha'Zix Mi lasci la Questa Sì il frutto Ma visto Kha'Zix Andiamo a invadere Mi hanno tirato dritto No in top Mate Posso vultarlo Aspetta Aspetta al momento giusto Vai Quasi Poteva andare meglio Lo so Poteva andare meglio Però Arrivo Arrivo Sto arrivando Vai vai Ci sono Metti Sei il 4 Perfetto 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 Questo Lo stacchiamo Esatto Allora Ok Farmi un po' Avescio l'angolo Intanto è Kha'Zix Lui c'è Kha'Zix Se viene Puoi venire anche te Sì ma Ma qua Perso il carrot Peccato Avevano 8 di vita 10 10 10 Ah Kha'Zix è mid Ok Adesso ragazzi vi faccio capire chi comanda Comunque Ormai È proprio top Ah qua ce l'ho Ok Non mi ricordavo L'igniter non ce l'ho mai Sulla D Non ti preoccupare Tranquillo 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 Fatto il mio lavoro Sono io Grazie Senza di te non so Davvero come avrei fatto Vengo a truccare il demo Eci arrivo Vieni vieni Vai Esatto È questo che intendevo Tu provi parcheggiarti più in top Capisce Eh sì lo so però Finché Cioè è che è difficile Ancarsi La stai capito Non ce l'ho mai Quello è il problema Ma adesso lo deviamo mate Vai tranquillo Ah è vero Non avevo Non avevo pensato a questa Cioè abbiamo Abbiamo due champ Fatti apposta Mica te l'ho fatto prendere a cazzo Quello Vai Prendi i fasci Vai li sacrifico io E invece Dobbiamo andare mate Qua guardato Vai vado back Che ho il Tiamat Mio fratello ancora non si rassegna Il fatto che Fortnite sta morendo Eh Ah poveretto Dai Lasciali qualche speranza No 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 Vanno estirpate Alla realità Eh beh Vai vai Tu stacca Ma quanta vita c'ho Vabbè tanto cosa farà Guarda mate Ho preso un altro oggetto Che adesso mi da Mi fa staccare la vita Farmando Quanto è bello Tutto ciò Questi altri cinque Io ne comprirei sei di quelle Che arrivo top Fai che glielo spiego un attimo Lui qua Tranquillo tranquillo Vai vai vieni a sproccare il core E il demolisce Arrivo tranquillo Beh oh dai È un supporto morale Non indifferente Insomma Vai Vai Rick Ce la puoi fare Grazie Grazie Ti siamo Rick Oh Ecco fatto Dai viamo? E la voglia Oh ha preso pure la mia Devo andarmelo Aspetta Vai vai Non ci abbiamo fretta Sei pronto? Sì Possiamo anche prendere questo Vai E poi lo aggiustiamo per bene Ah Ma che cazzo vuoi fare? È stronzo Ma è fuori E qua dimmelo in faccia Eh con il DPS è morto Hai visto? Never forget about the DPS Mamma mia Il DPS signori Dici non ti guarda la torre sta là Effettivamente Eh con clap a questo minuto Eravamo già quasi all'inibito Eh ma che champion ci aveva Contro GP È immobile È facile contro GP Ovviamente l'abbiamo abusato Questo c'ha 8000 skill Per sustainare Tipo Adesso arrivo Adesso possiamo iniziare A giocarci La top è pronta Arrivo diretto Diretto in top Senza camping Esatto Scusa C'è qualcosa da dirmi te? Aspetta che glielo spiego un attimo Ecco Mi sa che ho capito Dici che ha capito? Sì 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 Guarda te lo spiego tutte le volte che volzi Ci sono eh Ci sono Arrivo Eccomi Ci sono eh Vai 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 oh 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 ha a aze Aiuto via scappare mi dispiace se t'ho lasciato da solo ma no ma tranquillo è tutto pianificato esatto back e via cioè sono delle pulci in confronto a noi questi ma che vogliono fare ma che vogliono fare mi chiedo guarda qua quanta vita fieric monkey bastardo mi ha preso il red e bro hanno imbrogliato l'ignite tre persone contro uno disonesti proprio soprattutto silas l'ho visto è tutta colpa sua senza ritegno un attimo che prendo un po' di vita se non ti dispiace ecco fatto ottimo mamma mia guarda quanta vita ha preso zezeroth eh ci potrebbe starlo zezeroth vini top vini top dobbiamo mandare un messaggio arrivo arrivo diretto no i miei campi non esistono più esiste solo giungla l'enemica esatto esatto e soprattutto la top l'enemica adesso non stacco più perchè ho 222 stack giocano anche col flash o fossero tutti uomini come me no la stacchiamola vabbè le stacco oneste ci vogliono presto il demolish presto 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 vieni 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 arrivo arrivo presto mi sei bastato mi sei bastato addio prendi il carretto eh ottimo è nostro è nostro oh c'è la tua volta oh c'è la tua volta questa tradizione della botta che viene è sempre eh si e niente c'è sempre qualcuno che deve venire qua incredibile vabbè adesso torno top e gli faccio capire che non funziona così eh esatto meglio solti pure te vedo che hai capito oh è questa? mmm è questo? se hanno il cambio tipo tag team è vero è vero ho uno vedi tu vieni in top fidati di me fatti quella sulla giungla top lì e poi vieni mate io prendo un altro Jorim Fist perché davvero voglio staccare la vita al massimo si ma infatti cioè considera che ogni minion ogni minion che farmi ogni minion che farmi vi da 9 hp cioè pensa a te 9 hp ogni minion che farmi buttali un po' via eh guarda qua la w mi ha dato 630 di vita ma ma guarda fammi delle altre stats il grasp il grasp il grasp non me lo dice vedo quanta vita ho ciucciato no però è 5 a vita quindi se vedi quanto lo procchi lo moltiplichi per 5 ok 16 per 5 50 80 guarda guarda silas 80 per 300 eh non c'ho la ultima tra poco adesso ce l'ho vai 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 tanca tu è nostro è nostro vai vai ma questo ma che c'ha di swiftness qualcosa non lo slowiamo per niente oddio ma lo tiraggio la torre mate vai tranquillo vai 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 ci sei ci sei rick dai ah 2 ah niente 2 hit li ho soltanto dato dobbiamo mantenere il focus sulle torre ho sbagliato eh hai perso di vista l'obiettivo il vero obiettivo mi dispiace questo periodo in iron mi sta tutto accidente noo il gauntlet ma perchè eh contro quella team comp ma qui vuoi a favor io capisco era bene il cd eh vabbè ma fatti ma fatti la trinity 5 mesi bella fil depota 5 mesi di respect grazie mille proprio per il re sub 5 mesi bentornato da ferix arm spero che tu stia apprezzando questo questa nostra combo e vedi tu fossi rimasto in lane con me era fatta Jacopo adesso ti fai quello poi vieni in top arrivo arrivo ecco qua vai fatelo pure ok andiamo vieni qua nell'ascensore arrivo presto 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 che tra un po' si parte pronti via ecco qua vai oh ho quasi preso il carretto con quel carcio peccato se comunque seon fa veramente dei danni atroci per la vita che ha secondo me ok che non ho difesa eh però si vai però sti cazzi c'hai quanto c'hai? 3.000 kp 3.000 kp più una doppia v che è effettivamente tanto non arrivo adesso ti andrò contro le torri sei pronto il tuo abicinti che io la ult vai vai ecco qua mi dirà oh io scappo si si vai 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 esatto esatto inimitor inimitor vai vado guarda da loro penso che sia finita ma adesso è appena iniziato è appena iniziato ok vedi così bisogna fare guarda tutto il team intanto i nostri alleati fanno le cose non sappiamo cosa ma le stanno facendo sicuramente adesso tranquillo ci sono ci sono vedi vedi tutto grazie a noi adesso ho il tp torno in top e vi faccio capire chi comanda se un con la build normale è si un che stacca la vita questo tanta tanta vita cioè adesso la vita praticamente l'hai finita ti fai lo sterac e poi ti farai altro addio no mani a black cleaver non so aspetta che vi faccio capire a sto ragazzo qua esatto via beh c'è anche il frozen mallet ah è vero chi sta arrivando arriva qualcuno o sei soltanto stupido ecco sparisci mamma mia quanta vita mate quanta vita bello George grazie grazie George vuol dire per lì non posso usare il demolish aspetta che sto arrivando sto arrivando sto arrivando c'è lo sterac che tempo non c'è lo st uno è andato mamma mia mamma mia il grasp il grasp mi ha salvato mate vai quanto cazzo li ho tancati sti sti due affari vedete che bel champion che è Sion aspetta non lo devo attaccare ripulati con red e poi dopo ok poi dopo continui a vai su via su via cioè pensi che uno che non prende il flash sia così pussy hai ragione vai andiamo via adesso stanno tornando becca del DPS vieni qua vieni qua vieni qua vieni Nami vieni oh cazzo eh c'è l'altro inket rosso non vale oh ma allora ascensore via via scappa 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 non è che cazzo volete fare venite ma ci penso io voi signori ma ci penso io esatto via mamma mia spazzati via spazzati via ottimo bastardo figliacco ecco qua adesso continuiamo a tirare dritto mate è un po' i demonish ecco qua ma che fa questo? stava senza d'attacchi il demonish ecco qua eccolo qui missione compiuta fatto fatto esatto Nami entraci dentro bravissima sì ah mi sei saltato addosso vieni qua vai questo la torre sì sì ma io prendo tu mi prendo anche le vostre madri ti porti a casa un ricordino 3.000 gold li abbiamo ecco fatto mate che dire io ne prendo un altro così continuo a staccare vita eh va bene mi faccio il mallet quanto dà? 300 d'hp full staccato in pratica eh caccia via il mallet me ne da 700 ho 4200 di vita eh lo so lo zenzero tra ragazzi io voglio staccare la vita qua ma qua come ti pingano devi picchiare lui hai capito? lui devi picchiare ah è perché non ho capito bene chi picchiare qui eh non t'hanno pingato abbastanza no doveva pinga più forte allora ragazzi guardate io c'ho 4206 di vita ah ma non ci sono tutti i pappagalli volevo vedere dopo tutti i pappagalli a quanto arrivavo vabbè comunque mi son fatto 50 hp con sti pappagalli non erano nemmeno tutti vediamo quanto mi faccio con questo 54 puff 64 10 hp la ward conta 10 non lo sapevo eh mamma mia questo boom 20 hp mi son fatto con questo jojo da 20 hp eh ma perché c'ho il il jar in fist qua ah quindi da qui bella 15 george insane quindi la ward è da 5 guarda sto prendendo 20 hp a botta così guarda quanta vita ho guarda ti giuro è una cosa impressionante ecco qua e comunque oh siamo già in track e stacchiamo c'è anche vegar ecco qua vai 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 eccomi quello giusto sto prendendo cazzo volete coglioni ecco qua a uno ecco qua mamma mia ho preso quello giusto stavolta mi sono ricordato i ping di prima ecco qua ma guarda quanta vita sto facendo con questi oggetti va incredibile che poi fanno amare le danni perché con la titanic tipo ti dici uno non so quanti schiaffi 153 danni e bonus in più mi pare quando l'attivo 500 danni in più guarda mette la titanic ecco beh perchè c'ha l'arma il bastardo ma quant'arma si è fatto cazzo è sta fusi via di pochissimo aiuto l'ha sentite cin diciamo che li ha sentiti li seguo eh 20 secondi alla ulti purtroppo guarda 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 dove vai jean? eh? ah andiamo in la eh? è l'ascensore ah l'ascensore prendiamo 13 secondi eh peccato hai venuto a tu portare eh è lì è lì oh tra poco ah qualcuno uno si guarda lascia il chiare e vai vicino di poil nexus e gli dai lo s lo scacco morale oh meta è più bello che qua dai ragazzi ce l'avete fatta meh 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 ahhhh Bastardi Li ho ottenuti 60 anni 4.700 di... intanto la vita cresce a caso Quasi 5.000 HP Molto bello Sion, devo dire Mi piace come champion Sion buildato solo resistenze Non lo so, guarda So soltanto che secondo me è veramente, veramente forte Sion come champion Davvero tanto